Eccoci in diretta, aspettiamo di vedere che entrano e cominciamo questa diretta di oggi sulla fotografia. Ecco che cominciano a vedere le persone che si collegano, quindi cominciamo questa diretta oggi sulla fotografia, dedicata a Liefried Lander. Con questa nuova diretta io conto di incominciare una serie dedicata ai fotografi che più mi piacciono e che comunque hanno una certa influenza sulla mia visione. Ciao Gianni, quindi ho deciso di cominciare da Liefried Lander perché per me continuo a rappresentare un fotografo a cui faccio riferimento tantissimo, anche perché comunque come vedremo Liefried Lander non è un fotografo che ha fatto che è soltanto un genere, che si identifica soltanto con un genere fotografico e quindi rispetto ad altri fotografi si differenzia un poco da questo e questo è quello che mi interesserebbe, che mi interessa sottolineare oggi attraverso questa puntata. Liefried Lander adesso come vedremo, cominciamo a presentarlo dicendo che Liefried Lander è nato nel 1934 e a soli quattordici anni ha cominciato a fare fotografia del paesaggio sociale americano. Ha mostrato sin dall'inizio una grande capacità di offrire tantissime informazioni all'interno delle sue fotografie attraverso composizioni dinamiche. È riuscito a realizzare fotografie con immagini divertenti, ma anche toccanti, è riuscito a inquadrare perfettamente quello che era il caos della vita cittadina negli Stati Uniti e quindi poi dopo però ha mostrato di essere un fotografo che ha fatto un po' di tutto, ha fatto fotografia di ritratto, ha fatto fotografia erotica di nudo e ha fotografato piante, ha fatto un libro di selfie. Lui negli anni 60 cominciò a fare, in un'epoca in cui ovviamente ancora i selfie non erano una realtà. Negli anni 60 incominciò a farsi dei ritratti e tra l'altro ci stanno anche dei ritratti, degli autoritratti che fanno parte delle sue foto più famose di street photography, che vengono comunque definite come street photography. E poi questa esplorazione su se stesso l'ha recuperata di nuovo alla fine degli anni 90. E quindi la galleria Frenkel nel 2000 pubblicò una monografia su questi autoritratti. Ci sta un articolo su internet in cui si dice che praticamente se vedete questi autoritratti di Liefried Lander faranno sparire i vostri selfie, perché comunque i suoi erano autoritratti e fatti in un certo modo, pensati, ragionati e con una capacità incredibile di comunicazione, quindi non il selfie tirato lì. Amava mettere se stesso dentro la composizione, quindi questo pure ha esercitato molta influenza sulla mia fotografia. La fotografia fatta a Los Angeles a ottobre del 2011, quella della ragazza orientale, per intenderci, quella che apre la splash page del mio sito web www.alexcoge.com che è una delle mie più famose. Lì mi si vede riflesso con il sombrero all'interno della composizione e io ho sempre detto che se non ci fosse stato Liefried Lander presente nella mia testa io non avrei mai realizzato quel tipo di fotografia, probabilmente. Poi il lavoro di Liefried Lander è stato incluso anche nella influentissima mostra New Documents del 1967, curata da John Sarkovsky al Museum of Modern Art di New York, in cui compariva insieme a Diane Arbus e Gary Winogrand. Quindi questa è un po' la mini biografia di Liefried Lander che era importante presentare prima di cominciare a analizzare un po' le sue fotografie. Adesso metto in condivisione lo schermo e incominciamo a vedere il lavoro di questo grandissimo maestro della fotografia. Quando parliamo di Liefried Lander a me viene sempre da pensare a quello che dico, faccio la comparazione, se per il metal la triade imprescindibile da considerare sono stati i Black Sabbath, i Led Zeppelin e i Deep Purple. Per la street photography io faccio i tre nomi di Liefried Lander, Gary Winogrand e Joel Meyerowitz. Partiamo dal suo American Social Landscape che fondamentalmente è la street photography. Partiamo da queste fotografie e cominciamo un'analisi. Lui fece una serie, che poi è diventata anche libro, dedicata ai televisori dentro le case, dentro le stanze d'hotel e quindi diventa... scusate per questa cosa che... e quindi è molto interessante questa cosa che anticipa in un certo senso anche la visione dei fotografi New Topographics, in particolare con una foto di Stephen Shore, che vi anticipo sarà il fotografo che analizzerò la prossima settimana, questa cosa di fotografare il televisore, magari anche con delle immagini dentro. Stephen Shore ha fotografato un televisore dentro una stanza di albergo e comunque lì Friedlander l'aveva spinta un po' più avanti la cosa, nel senso di fotografare anche il contenuto dentro di quello che appariva sul televisore in quel momento. Qui vediamo la composizione che parte da... appunto l'oggetto è in posizione centrale e comunque ovviamente la distorsione della lente rende un po' le linee un po' storte, quelle esterne, della lampada da una parte e della porta dall'altra. Ripresa in questo modo comunque l'impatto va a finire direttamente, chiaramente l'occhio va a finire sul volto della donna che compare sul televisore, no? Qui un'altra fotografia in cui c'è un uomo durante una trasmissione televisiva però ci sono tantissimi altri volti ed è una collezione di volti impressionante una composizione pregevolissima in cui oltre al volto sul televisore vediamo i volti nelle foto e vediamo i volti delle piccole statuine, degli angioletti che ci stanno qui e quindi è interessante. Qui approfittiamo anche del fatto che c'è anche l'ora sulla sveglia e anche un'altra foto che è molto interessante secondo me, no? Questa è una tipica composizione alla Lee Friedlander dove praticamente ci stanno tantissimi elementi presenti nella scena. La scena in cui io riesco a vedere alcuni triangoli vedo che poi ritorneranno in un'altra fotografia comunque riesco a vedere un certo ordine nella fotografia io potrei suddividere la fotografia in un certo modo, il palo in mezzo ecco un'altra cosa che esercita su di me una importanza va a dividere il frame in un certo modo la signora sta incastonata perfettamente sulla parte di sinistra poi vabbè c'è questo edificio qui poi ci sta la ruota panoramica il cartellone con la scritta Coca-Cola Ocean World possiamo vedere vari elementi e ovviamente anche questa foto di una donna sul quadro e quindi anche questo aumenta l'interesse di una fotografia che comunica tantissimo con tantissimi elementi gli uomini sullo sfondo sono due poi ce ne stanno due qui due qui sulle altre foto che si vedono qui quindi ci si può giocare si può sbizzarrire sulle tante cose che si possono notare i numeri due che possiamo notare due, 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 due i soggetti umani che a me fanno offrire questo tipo di lettura dell'immagine quindi grandi spazi con Liefried Lander è un ordine dentro il frame che rende la fotografia perfettamente bilanciata è bilanciata di qua ricordiamoci quanto sia importante perché molte volte quando facciamo street photography il problema è proprio questo che molte fotografie risultano sbilanciate perché si fotografa un soggetto però non si pensa a tutto il resto ma la street photography non è fotografare un soggetto adesso è diventata così una palestra su fotografare il soggetto e quanto sono bravo quanto sono capace di coraggioso di quante palle ho di fotografare quel soggetto però limitarsi a quello significa avere una fotografia molto povera non è l'essenza di quello che era almeno fino a un certo punto la fotografia di strada questa è una fotografia presa dal suo libro America by car lui si è messo a fotografare anche dalla sua macchina e quindi fotografando dalla sua macchina adesso Liefried Lander ha 85 anni da molto tempo si trova in una condizione sta sulla sedia a rotelle lui adesso quando fotografa fotografa o quando gira con la sua auto o quando si trova nel giardino di casa fa il giro della casa intorno alla casa e quindi fotografa anche molte piante le piante del suo giardino si è fatto un autoritratto in cui lui emerge da tutte le piante che ci stanno nel giardino della sua abitazione della sua casa e in questo caso vediamo comunque di nuovo emerge questo cartellone Enjoy Coca Cola varie scritte qui commerciali e tutto il caos urbano che Liefried Lander ci ha insegnato essere uno dei punti dei temi principali della sua ricerca visuale qui ne vediamo un'altra con molti elementi un pezzo di macchina un cane tra l'altro in parte coperto da un palo molti pali ecco questa cosa che ritorna come l'altra volta abbiamo analizzato un po' la mia fotografia quanto i pali aiutano a definire anche le dimensioni e il senso di profondità di un'immagine chiaramente nel caos cittadino i pali ci sono e secondo me non vanno rimossi c'è chi se li fa rimuovere dal suo staff grafico ma secondo me i pali sono anche parte non dico l'essenza ma sono parte dell'iconografia di una città fanno parte della città e ci devono stare soprattutto se fai scene così ampie qui tra l'altro vedete ritorna di nuovo il senso di come si bilancia una immagine con un pezzo di macchina qui e la macchina da questa parte cioè senza la macchina qui probabilmente o senza la macchina qui parleremo di un'immagine che in quella parte sarebbe noiosa e quindi è una parte negativa in cui non c'è niente di interessante mentre invece in questo modo con le due macchine messe agli estremi risulta interessante un autoritratto di Lee Friedlander e vediamo comunque quando quando facciamo foto di questo tipo dovremo analizzare sempre dovremo pensare come se stessimo fotografando in in doppia esposizione e quindi questo dovrebbe essere sempre fatto quando fotografiamo osservare tutto quello che c'è possibilmente è quello che sta passando e quindi lui ovviamente io mi immagino che avrà anche aspettato che il soggetto camminasse per scattare questa immagine per dare ancora più dimensione e corpo all'immagine ancora una volta togliendo questo soggetto sarebbe meno interessante la fotografia poi c'è questo mondo interno ed esterno che continua ad esercitare una forza interessante all'interno di composizioni di questo tipo qui c'è un evento di cui non conosco bene credo che sia una manifestazione da come si può vedere fotografato un po' dall'alto e tra l'altro in una zona in cui c'è una curva ci stanno tante persone in strada c'è la polizia ci stanno uomini che si stanno muovendo uno che sembra ballare e comunque quando fotografiamo in questo modo dobbiamo sempre stare attenti ai livelli in cui riusciamo a ottenere determinato dinamismo anche dell'immagine a non dare un'idea come se fosse scattata da google maps ma al contrario come se fosse una fotografia in cui poi comunque qui si vede come un ovale tra l'altro che diventa il centro di attenzione dell'immagine vedete come tutto funziona alla perfezione le linee che ci guidano fino a qui gli elementi sullo sfondo che fanno gli elementi sullo sfondo arrivando fino a qui da cornice tutto diventa una cornice per il cerchio ovale che sta qui fino ad arrivare ai cerchi in mezzo che sono dati dagli ombrelli e quindi tutto è fatto secondo uno schema circolare a mio avviso che diventa interessante è una fotodinamica quando realizziamo delle fotografie dovremo occuparci anche di questo di creare delle fotografie che siano iconiche e questo ce lo dà dall'attenzione in cui riusciamo a scattare nel momento in cui ci sono delle posizioni interessanti delle posture interessanti dei movimenti interessanti l'attimo dopo potrebbe non essere più così ecco un'altra fotografia scattata un po' più in epoca moderna rispetto a quelle di prima con H&M la donna ovviamente diventa la parte che richiama più l'attenzione in questa fotografia ancora si vedono pali che vanno a dividere di nuovo la composizione con linee all'interno dell'immagine quindi non sono segni di distrazione come qualcuno dice il palo è la morte della fotografia come ho letto da qualche parte questa è una delle immagini più celebri è entrata e uscita da un luogo che ha questa porta girevole e poi nel mezzo c'è anche il riflesso è fantastico l'uomo che spunta qui nel mezzo quindi diventa anche interessante questa parte il frame è diviso ovviamente da linee che continuano vedete quante linee ci stanno all'interno del frame io ogni tanto ritorno a a voi per vedere se mi commentate mi ricordano qualcuno tutti sti pali eh sì Agnese adesso in questa immagine di nuovo un frame diviso da linee ovviamente di un vetro di una vetrina fantastica questa questa donna che emerge qui il profilo e la donna riflessa quindi interessante il riflesso della donna che che si va ad aggiungere qui molte volte vediamo fotografi quando iniziano che fanno questi riflessi stradano ma questo è fatto in una maniera strepitosa e geniale poi comunque il frame ha un rigore formale incredibile con la macchina in questa parte che comunque questo è un rettangolo nella parte superiore di sinistra è un rettangolo che è una foto nella foto diventa è una foto interessante anche una parte una sezione della foto che è anche una scena che la vita scorre dall'altra parte della strada e crea una composizione comunque dinamica ecco un'altra foto che amo particolarmente un altro palo c'è un altro palo e poi altri pali ovviamente e poi c'è una donna credo che sia all'inizio di una di un di una parata di una parade di una parata e quindi c'è una performer ci stanno tutte le persone che stanno guardando assistendo i ragazzi qui e poi e poi la polizia che sta controllando no quindi è una fotografia che secondo me è interessante qualcuno direbbe che questa parte qui magari è meno interessante ma secondo me è importante anche questa parte qui perché comunque c'è un continuo delle case c'è l'uomo in moto o bicicletta adesso non capisco questa è una delle fotografie più famose di Lee Friedlander se non la più famosa di quelle di strada il cono gelato non so perché richiama questa idea del cono la nuvoletta sopra con le tre palline del gelato il triangolo richiama un po' però questa fotografia è straordinaria per altre cose la fotografia presenta vari triangoli sull'asfalto ovviamente è l'ombra del segnale però io vedo altri triangoli ne vedo uno qui sulla destra che va praticamente a dare la dimensione ne vedo uno qui che taglia che passa nella parte della roulotte arriva fino all'auto bianca e poi arriva nell'altra parte del frame sulla parte bassa a sinistra quindi tutto è molto ben organizzato ben visto o meglio ben visto e l'equazione visuale funziona perfettamente a mio avviso la roulotte è posizionata sotto un albero l'altra macchina è posizionata sotto la serie di alberi e quindi al punto centrale c'è il triangolo poi c'è la casa che mi fa vedere altri triangoli ma sarò pazzo ma io vedo forme su forme finestre e quant'altro che mi fanno pensare molto e mi piacerebbe scomporla io sempre amo fare queste scomposizioni tirare linee sempre molto dinamismo nelle foto di lì sì Enzo hai ragione ma infatti se non sbaglio Alex Webb stesso dice che Friedlander è tra i fotografi che lo hanno influenzato sì anche il tetto della casa esatto anche il tetto della casa infatti sì è un altro triangolo sì e quindi sì composizioni molto dinamiche nonostante facesse molto quello che io chiamo paesaggio sociale no? perché rispetto ad altri fotografi adesso di street che puntano ad altri modi di formare dinamismo qui il dinamismo era dettato proprio dalla composizione arrivava proprio dalla composizione no? quindi un gran lavoro come fotografo di strada e non è un caso che sia riconosciuto come maestro adesso andiamo a Madonna allora Madonna io purtroppo ho potuto fare una piccola selezione perché davvero una piccola selezione di Madonna perché il servizio fotografico che realizzò con l'allora giovanissima e non conosciuta Luisa Veronica Ciccone che ancora portava i capelli scuri quella che poi sarebbe diventata la famosa Madonna era nudo totale nudo completo e quindi molte foto sono molto evidenti e molto adesso non mi viene il termine e quindi molto esplicite quindi ho potuto presentarvi soltanto queste due immagini che Facebook non censurerà nella prima tra l'altro questa è una sezione della foto perché la foto completa che è stata battuta all'asta per trentasettemilacinquecento dollari mostra anche la l'ascella pelosa di di Madonna no e questa questa fotografia è stata battuta all'asta per trentasettemilacinquecento dollari una bella sommetta anche se non parliamo di una delle foto più più care della storia che siano state vendute però vabbè qui entra anche il discorso che una fotografia assume il valore anche di quello di cosa o di chi hai fotografato e chiaramente il fatto che fosse Madonna ha il suo peso specifico sul valore della fotografia no quando la batterono all'asta però qui mostra un Liefriedlander e purtroppo non ho potuto far vedere tutto il lavoro erotico di Liefriedlander qui mostra un Liefriedlander che è un grandissimo maestro della fotografia erotica perché innanzitutto è molto pittorialista nel suo nel suo approccio fotografico fa dei nudi eleganti in cui le forme e le posture le posture aiutano a creare delle forme interessantissime e di nuovo ancora in questo caso possiamo parlare di dinamismo no perché perché le posture non sono mai banali perché le posture rendono tutto assolutamente artistico nei nudi di Liefriedlander c'è un libro di Liefriedlander che si chiama Nudes quindi praticamente presenta tutto una parte del lavoro erotico di Liefriedlander e che è assolutamente prezioso e che è anche questo un punto di riferimento per me perché lo sapete io non fotografo solo in strada faccio anche fotografia erotica e di nudo e quindi Liefriedlander è un esempio anche in questo cioè lui riesce a passare dal contesto documentazione sociale in strada quindi il paesaggio urbano e quindi la street photography e poi e poi questo grandissima fotografia erotica per me tra l'altro uno dei migliori fotografi di nudo ed erotico al tempo stesso perché comunque bisogna tenere presente che non è la stessa cosa fotografia di nudo e fotografia erotica la fotografia erotica c'è una storia che il fotografo presenta attraverso le immagini e quindi attraverso le composizioni riesce a creare una storia che di solito è aperta perché il messaggio il messaggio aperto è quello prettamente della fotografia erotica mentre il messaggio chiuso è quello è quello della fotografia commerciale ad esempio che deve imporre un messaggio e un simbolo invece nella fotografia erotica si lascia molto all'ambiguità a permettere all'osservatore di farsi il suo proprio film attraverso le immagini mentre invece la fotografia di nudo a volte è soltanto puro estetismo di forme e si concentra molto sul corpo ma non vuole presentare la storia quindi c'è una bella differenza tra fotografia di nudo e fotografia erotica anche nell'approccio in cui si realizzano le fotografie una curiosità ma perché è importante vedere i triangoli in una foto non è importante vedere i triangoli in una foto è che nelle forme geometriche io riesco a trovare comunque un perché di come ho composto la fotografia non è importante trovare i triangoli nelle foto è comunque avere un frame che è perfettamente bilanciato poi alla fine no? oppure ad esempio la posizione di determinate cose che mi vanno a creare non è importante i triangoli possono essere quadrati possono essere qualunque cosa è importante è importante comunque riuscire a trovare un ordine o comunque come un fotografo riesce a risolvere l'equazione visuale all'interno di un per qualcuno possono essere importanti i triangoli per altri altre cose però questo è quello che io leggo di Liefriedlander soprattutto in quell'immagine vedo molti i triangoli non è importante la foto perché ha i triangoli la foto è importante perché comunque presenta un momento secondo me interessante perché ha visto ha visto comunque quel cono gelato ha visto le nuvole perfettamente adagiate su quel palo su quel segnale e quindi quelle sono le cose importanti poi dopo ci si gioca anche su altre cose sulle linee io tiro delle linee che sono completamente fuori dalle regole quelle classiche delle regole dei terzi e tutto il resto perché comunque mi aiutano poi ad evidenziare quello che io volevo mostrare e quindi questo è quello che io voglio proporre come tipo di lettura bello vedere ciò che gli altri non vedono per questo credo che siano interessanti queste dirette perché poi io non ho assolutamente la presunzione che le mie letture siano la scienza nel modo più assoluto quello che vedo io magari non è visto assolutamente da un altro qui andiamo a Maria che è la sua sposa italiana sua moglie italiana o d'origine italiana Maria e lui l'ha fotografata un po' in ogni contesto l'ha fotografata in intimità l'ha fotografata rendendo tributo e omaggio a a sua moglie e questa è una cosa che anche esercita in me un forte fascino perché io cerco di fotografare mia moglie Carmen il più possibile anche se lei è abbastanza restia a farsi fotografare però a volte accetta e quando accetta la cosa diventa per me divertente perché comunque si dice fotografa ciò che ami e io la cosa che più amo al mondo è mia moglie e quindi per me sarebbe il soggetto mio preferito se non avessi così poche possibilità di fotografarlo la vorrei fotografare molto ma molto di più e non è detto che in futuro non lo farò qui praticamente vediamo una serie di immagini di Maria la la moglie di Lee Friedlander in situazioni diverse e sono momenti interessanti molto fotografici a mio avviso spontanei perché un altro aspetto sì Alex avevo visto una sua foto con sua moglie Maria in spiaggia credo sì in effetti lui ha fatto due si è fatto due autoritratti due selfie insieme con la moglie ne ha fatto uno da giovane e poi ne ha fatto un altro già già in già da da anziani è interessante anche vedere questa cosa avevo pensato di proporli tutti e due adesso non mi ricordo se uno dei due l'ho proposto o se ho proposto tutti e due adesso vediamo e comunque interessante pure quello ha fatto una foto insieme sì sì è vero un selfie giusto sì sono due selfie in realtà se ne fecero uno quando Lee Friedlander era giovane poi tra l'altro parleremo di Lee Friedlander da giovane perché per me aveva una faccia da caratterista molto interessante è una un volto da non so da da cattivo dei film di una certa epoca anche di di film hardboiled di film noir quindi Lee Friedlander secondo me era un personaggio anche molto incisivo dal punto di vista di come appariva nelle foto ecco qui la foto da giovani eccoli Friedlander con sua moglie Maria era la foto di cui parlavamo forse quella di spiaggia non lo so se l'altra o forse se ne sono fatte altre e qui con i figli sempre Maria al centro dell'immagine e quindi vediamo anche questa foto momenti del quotidiano che lui ha potuto realizzare di di sua moglie no? ok e adesso passiamo all'ultima l'ultima parte le selfie le selfie che sono fatte molte utilizzando i riflessi strada e e vediamo e vediamo questa fotografia qui in cui vedete comunque c'è sempre un a parte le linee che vediamo degli edifici che creano comunque una sorta di 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 forma di comporre moltissime linee che creano alla fine come una testura no? all'interno dell'immagine poi ci stanno dei personaggi che si vedono c'è un'ombra di un di un uomo e e poi ovviamente c'è lui che si è fatto lo scatto ancora un'altra foto vedete c'è un uomo qui quindi ogni volta cercava comunque di mettere degli elementi interessanti lo sguardo arriva fino alla macchina dall'altra parte della strada ci sono queste queste porte tutto non non sono scatti assolutamente banali ecco lì Friedlander già in età più più avanzata e ci stanno varie immagini alla parete e e quindi potete osservare un po' un modo di raccontarsi no? questa è un'altra immagine con lì Friedlander e questa è quella a cui mi riferisco quando lui qui sembra una scena assolutamente cinematografica cinematica e quindi e quindi possiamo immaginare questa in questa fotografia c'è tutta una storia dentro no? e possiamo immaginare addirittura l'inizio di un film la fine di un film c'è il paesaggio dietro l'uomo che sta abbandonando la città sta lasciando la città quindi può essere l'inizio o la fine di un film poi io sono un fan assoluto sia dei film noir e in particolare poi di di Alfred Hitchcock e quindi questa immagine a me richiama molto certe atmosfere dei film di Hitchcock e tutto quello che ne consegue da da quell'immaginario lì quindi immagine assolutamente fantastiche un altro ritratto quanti quanti di noi si sono fotografati in questo modo però a volte vengono delle cose improponibili a volte vengono delle cose che sembrano più organi sessuali che persone quindi invece qui qui si vede assolutamente la forma umana e giocando con tutto la textura del frame ovviamente diventa interessante poi ovviamente io vorrei ritornare ma possibile che non l'ho messa mi vergogno se non l'ho messa ah ecco questa immagine questa fotografia probabilmente è l'immagine più famosa di Liefriedlander non quella del cono perdonatemi che mi sono dimenticato questa immagine questa è la fotografia più importante secondo me di Liefriedlander perché qui parte con un concetto che è molto interessante dal punto di vista concettuale lui presenta il fotografo presenta se stesso come un voyeur e quasi uno stalker attraverso mettere se stesso all'interno dell'immagine poi adesso che mi ricordo ho dimenticato un'altra foto che è un selfie fantastico in cui in cui lui purtroppo sono tantissime le immagini di Liefriedlander ma adesso la cerco su internet in questo caso tra l'altro il collo della pelliccia della signora davanti della donna davanti fa venire i capelli un po' a spina di Liefriedlander quindi diventa anche divertente da quel punto di vista il frame poi è diviso fondamentalmente in due parti in cui c'è la parte dinamica che diventa a parte la riflessione sullo stalker sul fotografo che ha seguito e ha fatto questa foto e sfido di voi quanti tra voi fotografi di strada hanno tentato di replicare questa fotografia tantissimi perché è una delle più iconiche di tutta la storia della street photography no? e sulla parte destra vediamo il dinamismo offerto dalle macchine che stanno muovendosi e stanno facendo la curva e quindi quell'atto di fare la curva delle auto che vengono incontro offre il dinamismo urbano all'intera scena e quindi è incredibile e fantastica voglio chiudere con una che perdonatemi ma qui non l'ho messa un attimo allora allora vediamo eccola questa che vediamo qui è una fotografia a mio avviso pazzesca una fotografia fatta con fotocamera ovviamente analogica in quel periodo lui è sfocato in primo piano e diventa il protagonista della scena di nuovo divisa a metà e quindi può fare da contraltare all'altra perfettamente lui sta dalla parte sinistra esattamente come nell'altra ma ovviamente qui vediamo il volto di Lee Friedlander si è scattato questa foto e da questa parte c'è tutto il dinamismo delle persone che stanno camminando attraversando la strada e più c'è la donna qui che tra l'altro con i capelli richiama un po' la bionda del primo scatto e quindi questa è una fotografia a mio avviso incredibile perché autoritratti sì ma fatti in analogico fatti con tutta un'altra cultura dietro adesso tutti si fanno i selfie prima no e sebbene abbiamo visto che anche Vivian Mayer amava farsi i selfie e altre e altri fotografi comunque sia abbiamo visto che 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 non tutti i fotografi erano predisposti mentalmente a far comparire loro stessi abbiamo visto fotografi come Henri Cartier e Bresson pure che hanno fatto autoritratti di loro stessi e appunto la città da Vivian Mayer però di solito di solito quel periodo non si pensava a fare soprattutto fare il selfie perché ricordiamo che l'autoritratto è un conto l'autoritratto è un conto e il selfie è un'altra cosa perché il selfie si può fare fino a dove ti arrivano le braccia quindi praticamente si utilizza la fotocamera e facendo il selfie fino a dove arrivano le braccia però l'autoritratto invece predisponi la fotocamera ti fai lo scatto la programmi e ti fai lo scatto ma è quello dell'ombra sua sulle spalle degli altri Bruce Gilden l'avrebbe fotografato non credi ah sì sì come soggetto sì come soggetto sicuramente sì ma secondo me infatti avrebbe fotografato diversi fotografi Bruce Gilden perché anche anche Gary Winongrand sicuramente sarebbe stato un altro soggetto da fotografare a mio avviso non so Nan Goldin anche no e quindi ok sì praticamente questa è una foto che per me è assolutamente fantastica ecco perché io non prendo posizioni rispetto a quello che fanno molti fotografi che sono contro i selfie il selfie di per sé non è nulla di malvagio non c'è niente dipende come lo fai esattamente come come ogni fotografia dipende chi la fa dipende come la fa e dipende il valore della fotografia quindi una selfie di per sé non è la serie B o la serie Z della fotografia certo se fai un selfie al bagno facendo la bocca a papera quello non è un selfie quella cioè è un selfie ma una schifezza comunque è una schifezza ma sempre dipende il contesto sempre dipende chi lo fa e come lo fa quindi non bisogna parlare male dei selfie o parlare male di autoritratti dipende sempre che cosa è Nan Goldin ha basato la sua vita nel farsi la sua vita di fotografa nel farsi i ritratti quindi e ce ne stanno tante altre di persone che che hanno fatto una carriera facendo ritratti magari potrebbe essere il tema di una puntata speciale su chi si è fatto i ritratti e attraverso quelli ci stanno anche fotografi molto famose che hanno fatto degli autoritratti che sono stati valutati tantissimi sono tra le foto più care poi ne riparleremo di questo sicuramente e quindi questa è stata la presentazione di adesso io rimuovo la condivisione ok e torniamo a noi questa è stata la puntata di oggi dedicata a un grandissimo della fotografia che è Lee Friedlander io spero che vi sia piaciuta la mia modesta interpretazione dei suoi scatti è un fotografo che amo tantissimo e sento che le parole non riescono a rendere giustizia a un fotografo così importante almeno per quello che che continua a dare alla fotografia e quindi come punto di riferimento almeno per un certo tipo di fotografi io credo che Lee Friedlander sia riconosciuto come maestro dalla maggior parte degli street photographers a livello mondiale non possiamo non tenere conto di nomi come Lee Friedlander Joel Meglierowitz Gary Winongrand questi sono i nomi più importanti quindi adesso la prossima puntata sarà dedicata a grazie a tutti voi ci stanno salutando gli amici Gianni Enzo io credo che la prossima puntata appunto vi ho anticipato che sarà dedicata a un mio mito assoluto forse il mio fotografo preferito anche se è sempre difficile dire chi sia il mio fotografo preferito però comunque Stephen Shore sicuramente rappresenta ha un pezzo importante per me e non solo per me e quindi mi onorerò di fargli il giusto tributo attraverso un'altra semplice lettura delle immagini l'ultima cosa prima di salutarci che volevo dirvi che questa settimana ha fatto il suo debutto della mia nuova rivista Snapshot la grande shore Massimiliano esatto e ha fatto il suo debutto Snapshot la nuova rivista di Street Photography in cui presentiamo attraverso pochissime immagini ogni fotografo quindi una rivista corale un po' quello che era all'inizio il mio The Street Photographer Notebook quindi abbiamo ripreso un po' l'approccio iniziale di The Street Photographer Notebook però come sapete The Street Photographer Notebook si propone di pagare i fotografi quindi ne posso mettere ormai soltanto al massimo due per ogni numero e quindi per Snapshot invece essendo corale non paghiamo i fotografi però li ricompensiamo attraverso una pubblicazione che poi può essere anche il trampolino di lancio verso The Street Photographer Notebook e altre avventure editoriali e quindi con Snapshot adesso già ieri abbiamo venduto un paio di copie la gente è contenta i fotografi sono contentissimi i miei clienti anche perché comunque sto proponendo una nuova rivista è una faticaccia perché faccio The Street Photographer Notebook ogni mese e quindi si aggiunge ogni mese anche Snapshot ma questo è l'impegno mio per offrire qualcosa in più ai fotografi ci tengo a questa cosa realizzare qualcosa fatto dal punto di vista di un fotografo professionista e quindi cioè la mia rivista magari sarà meno laccata a livello di layout meno precisa noi non abbiamo un sito dedicato alla rivista ma si appoggia al sito www.alexcoge.com ma comunque in questo modo io riesco a fare una fotorivista una rivista fotografica che offre spazio non ai soliti trezzemolini non a quelli che stanno un po' dappertutto e partecipano sempre alle solite cose ma a quelli che secondo me meritano di essere visti e quindi e quindi anche nomi che che molti non propongono in in altri contesti no? ma ovviamente anche i prezzemolini se vogliono sono benvenuti a partecipare e tanto poi io valuterò le immagini non è che valuto i nomi il nome per me conta poco conta l'immagine cioè il nome affiancato all'immagine quindi cerchiamo di dare questo ai nostri lettori ai nostri fotografi avremo modo di riparlare anche di Snapchat perché adesso è un progetto editoriale che è appena iniziato che comunque sento sento l'entusiasmo del battesimo sento l'entusiasmo di tutti quelli che già mi stanno facendo i complimenti la rivista è apprezzata e questo è soltanto il primo numero migliorerà sicuramente nel futuro però intanto andiamo avanti così quindi grazie a tutti per l'attenzione ci sentiamo ci vediamo alla prossima diretta con Stephen Shore con alcune fotografie di Stephen Shore e poi ci vediamo comunque sui miei canali di Facebook di Instagram con le mie fotografie ciao a tutti grazie a tutti